buonasera e benvenuti da borsari strumenti musicali ragazzi sorrido è finalmente arrivata non è un miracolo la bontempi 15 37 90 guardatela è fantastica aspetta che stacco la corrente è fantastica ha un leggio incorporato che si può attaccare e staccare ha una maniglia per il trasporto può funzionare con quattro stilo ma la cosa più importante è il tasto guardatelo è un tasto di grandezza naturale con una giusta escursione come un vero pianoforte chiaramente non ha la dinamica però hanno veramente pensato anche al grippe sotto le mani quindi un po rovidino è veramente bella direi che tra tutte le tastiere diciamo adatte per la scuola media è sicuramente la migliore proprio perché questo tasto ti dà veramente l'impressione di una vera tastiera quindi di una grandezza regolare e anche l'affondo è un affondo molto simile al normale nulla a che vedere come possiamo prendere a paragone questa tastierina ad esempio della medeli che ha 4 ottave però il tasto non ha praticamente nessun tipo di corsa un affondo cortissimo e tasti puffo come li chiamo io quindi assolutamente questa novità assoluta della bontempi è davvero incredibile poi l'altra cosa bella è che l'hanno fatta con l'attacco di corrente che è con un cavo che va con l'usb quindi lo potete attaccare al power bank a la chiavetta quindi il lettore di chiavetta usb per leggere ad esempio delle basi mp3 e poi suonarci sopra quindi un prodotto veramente carino io direi giusto di farvelo sentire ecco un'altra un'altra novità assoluta e carina della bontempi è che mettono sempre la strisciolina ad attaccare sui tasti che ti indica le note perché il problema ecco quando si parla con dei ragazzini della scuola media il più delle volte vanno a scrivere e a sporcare i tasti ecco in questo modo abbiamo sia il nome della nota in inglese c d e do re mi sia anche dove si scrive sul pentagramma quindi veramente un doppio utilizzo devo dire che anche la sensazione di toccare questa tastiera è bella quindi io avevo già diciamo visto il prototipo ma devo dire che adesso che la vedo veramente finita è bella robusta mi dà un senso di solidità e soprattutto la tastiera è la cosa che mi convince di più considerate poi che nell'ambito del della scuola media non è che vengano richieste chissà cosa non è che dobbiamo fare dei concerti però il fatto di avere un tasto che risponde bene che ha un affondo giusto come un tradizionale pianoforte sicuramente è molto più adatto perché fin dall'inizio si può iniziare a mettere giù le mani con la postura corretta cosa che non si può fare con le altre pianoline e la tastiera è ricca di funzioni ne ha tantissime di cui la maggior parte probabilmente non serviranno nemmeno per la scuola media però sicuramente per divertirsi sì posso cambiare suoni devo dire che anche i campioni di suoni sono belli ma io direi che veramente un prodotto molto carino è anche dotato di ritmi di accompagnamenti ha veramente tantissime funzioni che non sto nemmeno ad elencare perché comunque è giusto anche che uno si scopre diciamo la tastiera parliamo sempre di un prodotto destinato alla scuola media il prezzo è veramente ridicolo parliamo di una cinquantina di euro per un prodotto che davvero è molto molto interessante e almeno a me mi ha convinto perché sul mercato non esiste un altro prodotto con queste caratteristiche almeno per il momento poi vedremo cosa ci riserverà il futuro io vi ringrazio di avermi ascoltato vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube a condividere i nostri video a parlare di noi come sempre siamo molto simpatici e cerchiamo di fare il nostro lavoro con tanta passione e mettendoci davvero il cuore e vi aspetto naturalmente da borsare strumenti musicali rotondatori a bologna per venire a vedere i nostri strumenti e magari a provare questa bellissima tastiera grazie a presto ciao